ok ragazzi prima partita vinta dal barcellona adesso cosa succede volete la rivincita voi del real dove sono quelli del real una colori l'altro eccola vicini state volete la rivincita voi due siete pronte barcellona gliela date che i perdenti ripartono col pallone ma le polli siamo pronti e cominciamo lori dai palla facciamo bene dal fischio così perdiamo tempo e basta aspetta che fischio si bene andiamoli parattone si fa un sacco di visual è il due contro due mi faccio giocare registriamo le regole se ne inventano strada facendo due contro due fanno sempre l'altra volta non era mai gu mai no ma muo gli ho detto appena toccano la pare rossa è gu palo attraverso non esiste ma c'era il pepi che giocava con la fa impressione grande capito i bambini giocava e si esalta quando fa quello si si no ma cosa vuoi che ti dico noi dobbiamo sempre bere il culo parattone occhio che sei al limite con le mani mi pare di giocare a tennis mi pare di giocare a tennis no non è me no non c'è tanto se ha crihs un ragazzo che si lamentano di tanto in tanto li titicano li incassano segnano che giultano se non mi aspetta occhio che rifischio e falli eh occhio e falli che rifischio fatto cadere balla che a chris no chris se t'ha buttato giù ci vuole il bar ci vuole il continuo buona di lì buona di lì vai stavo scherzando stavo scherzando la fallunga e piangi e si incazzano e chris mi guardavo di essi ragazzi 1 a 0 signori e signori 1 a 0 a 1 a 0 è un'ora che avete cominciato questa è la rivincita prima una zero michele risulta sempre per i conti abbiamo levante contro ponente buona ma c'è arrivato di vincere attenzione o bella da lontano 1 a 1 signori e signori no 2 a 0 2 a 0 se il barcellona ragazzi sta mantenendo un'ottima reale sveglia reale volete la bella sveglia tiro non l'ha toccata al portiere mi sembrava no non l'ha toccata sto palo proprio qui deve stare vedo stop e tiro ora anglo bravo alla michelino carino impazzito la passa uscita del portiere angolo vai angolo 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 chris o il portiere in quel caso però era edo perché più vicino alla porta va bene chiudiamo l'occhio dai chiudiamo l'occhio commenti qualche cliente attenzione occhio a michelino impazzito no michelino devi addirizzare il piede con calma vicino di più a ciao a real madrid è una grande occasione grande occasione ottimo anche il passaggio è il 2 a 1 vamo eccolo la i spagnoli sono risvegliati anche loro guarda senti cattivo edo va in forno e rigore rigore cioè pulizione dai facciamo pulizione o chris guarda dove è parata troppo no non è rigore è punizione metti l'uomo davanti se vuoi si incappiano gol il barcellona la chiude ragazzi signori ancora andiamo a vedere cosa ne pensano i ragazzi come è andata ragazzi come è andata male portiere a caldo una cosa a caldo di qualcosa attenzione datevi la mano come i veri giocatori sportivi campioni ragazzi andate il tono piano senza fare a bordo sempre la solita vittoria si vogliono bene vedete in verità com'è bravo bravo saluta chris tirate su chris sportività chris in piedi ciao ci vogliamo bene ci vogliamo manca così hanno vinto l'anno vi lascio con chris un saluto chris cap chiudimi il video dai mettete un like ciao